E pace a tutti ragazzi sono DVJ e oggi siamo su Slither.io Oggi siamo in compagnia di il fantastico Simone Ciao Lui non è uno youtuber ma è mio fratello Quindi alcuni video saranno anche con lui Allora qui all'opzione c'è qualcosa di nuovo? No Ok allora cambiamoci la skin Simone tu quale metti di skin? Io metto la mia skin di sempre Quella là con il pugno ve la faccio vedere? Sì Ah potevi anche iniziare Ecco questa prende E invece io ho questa Questa è la mia personale lo sai Simone? Ah Ok Io mi chiamo Io mi chiamo Oddio Ok E che mi piace questo? Io mi chiamo Mi chiamo Cipolla io Ok Siamo pronti per giocare? Aspetta Vai Ok Ok Io sono sempre stato bravissimo E ho battuto uno grande E un altro E un altro Quello mi è andato Si è suicidato Mi è andato Oh Sto a fare la strage ragazzi La strage Che cos'è? Guardate Mille Ah lo si uccide anche con le verdi Ma lo si uccide anche con le verdi Non sa che cos'è la strage Oh Si uccide tutti Vuol dire quello Ah Wow No io devo cambiare Ok Tu muori Allora Vorrei circondarlo quello Ma non posso No no Ma tu muori Allora Devo stare attento perché Cioè sono già diventato grande però Guarda io C'è tanta gente Siamo 497 Noi facciamo Chi fa più punti vince Va bene? Ok Mi sa che vincerò io Perché io Sono sempre stato bravissimo Alla fine del video Vediamo Chi ha più punti Diciamo cioè Chi ha totalizzato più punti In una partita Capito? In una Si Non è in 5 No no Non facciamo la somma Dei punti Delle partite Vediamo la partita Quando abbiamo fatto più punti E E vediamo il punteggio Ma quello là No Non si può cerchiare E se andate a sfidare Grazie Cercare di rubare Ragazzi Se siete giganti Facete un piccoletto Quello là E' uno stupido Piccoletto Vero Davide? Si Ok Questo Lo frego No Perché poi diventa Uno giga Allora Questo mi vuole fregare Diventa pure un po' Più grosso di voi Perché lui Già con la grandessa Che c'è all'inizio Diventa più grosso Eh Succederà a me Pure Però io non so Perché quando Uccido un tizio Io vorrei Accerchiare qualcuno Però Io Accerchio sempre qualcuno Ma per forza Lo accerchio Se ucciderlo Lo accerchio sempre Accerchiato? Sì Ok Accerchiato Accerchiato un tizio Ok Oh mio Dio Mi stavo a schiantare Su di lui Sì Ok Come ho fatto? Avevo visto che ero morto? Mi sono schiantato a lui Però sono vivo Ok Allora Sono a Sono a 4.000 Arrivo in classifica A 6.000 Quindi ancora Quello no Se lo uccidevo Cavolo ragazzi Dai che Devo Ma Davide Ti dico Il casino Sta sempre in mezzo Lo so Oh no Ci sono Uno piccolissimo Quanto c'ha No Guarda Eh no Mi sei levato Quanto c'ha Avevi? 3.916 Un attimo ragazzi Che Me lo scrivo Se no Poi me ne dimentico 3.916 Ok Io non sono ancora morto Di 6 a 7.000 Sei in classifica? No È difficilissimo a me È a 7.000 Ragazzi Dobbiamo fare Di più di 7.000 Non so se Riuscirò a farlo Se uccido questo Sono Perché io Sono abituato A vincere Acqua Perché Oh Oh mio Dio Sto a straucide tutti Come stai a straucide? Sì Quello M'ho mandato addosso Cavolo ragazzi Cavolo A me vanno sempre addosso Quelli giganti qua Vanno sempre Questo è una 2.000 A 500 A me Io mi sa che C'ho 1.446 No Con la verde Se si suicidava Era molto meglio Allora Ma quindi c'è qualcuno Ma quindi c'è qualcuno Molto più grande di me 8.071 8.071 Scrivilo 8.071 Qui 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 Simone Qui Qui 8.071 Aspetta Vuoi vedere 8.071 Dai ragazzi Li dobbiamo uccidere E no Ho perso 2.000 Ok No Allora Facciamo la La somma Delle partite Perse A me A me 2.615 Ok Andiamo Io vincerò Di sicuro Perché Sono sempre Il più forte Quella scema Perché? E' 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 Io li prendo Sempre Un boccio Di X Somma 301 Scrivilo Sotto la tua Altra scritta 300 300 Io devo scrivere Tieni Però fa schifo Quanto ho fatto Io Sì Sì E' E' sempre Stato Il più forte Stranamente Mo Sono diventato Stranamente Perché di solito Sono bravissimo Vero Davide Che tu Guardavi Quando Non Stava E fra un po' E' Finito il tempo Ma io Io Vinco Già Perché La prima L'ho Vinta Allora Prima Non Succede Questo No Sono morto Un attimo Mi sono Vado Ok ragazzi Ora faccio Uno scherzetto A Simone E faccio Che ho vinto Con più punti Simone Ho perso Un attimo Simone Ecco Allora Ho perso Io Non mi sono Sto ancora Di bene O di te Ok Cioè Riproviamo Fra pochissimo Finisce Il tempo Travolo Però è Io non ho fatto quasi niente Cioè 540 Ho fatto Solo Ho fatto Solo 500 Ok Tu vincerai E' Finito Allora Perdi Anche se questo Punteggio Che ora Perdi Non vale Allora Vediamo i punti Guardate Quante partite Ho fatto Io Ne ho fatte Allora Simone Hai messo in colonna Male Perché 201 272 No 12 Ok Allora 3 4 Ora Vi diciamo I risultati Ragazzi Simone Ho totalizzato 8584 Punti Io Invece 8984 E Facendo I calcoli Abbiamo fatto Il mio Meno quello di Simone Esce 300 Quindi Ho battuto Di Simone Ho battuto Simone Di 300 Punti Ragazzi Cavolo Sono stato Fortissimo Però pure io Sono stato Bravo Si Ragazzi Questo video Termina ora E quindi Ci rivediamo Al prossimo video Pace